Un applauso grande per Danny che è rimasto davanti a tutti in tutta la gara Arriva Samuele Capuleti, record del miglior tempo sul giro di Samuele Capuleti Bravissimo, vediamo chi arriva per terzo Siamo un po' in vuoto dietro a questi due piloti Attenzione, abbiamo un gruppo di piloti Con quattro piloti Tre piloti, scusate, tutti rimanendo in un'altra Siamo, ci sarà il primo a tagliare il trequarto Perché se non vuole dire, perché non si fa il trasfondo Ora non si taglia più il trequarto Attenzione all'esterno Venizia andosta all'esterno Si conferma certo Francesco, mezzo, quarto punto da Danny e mei Siamo fermata in testo Thomas e Langerini Bravissimo, c'è l'arrivo Bravissimo, la sua auto Vogliamo salutare tutti i due campioni Con il nostro applauso Rocco Bertin Questa è la situazione E' la gara di Cross 50 Non avanti a questa zona La finta è terminata E ora tocca agli Puter Gravissimo, c'è l'arrivo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.